Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, questo è il quindicesimo episodio della mia serie survival di Minecraft. Siamo sempre qua all'interno del villaggio, dove eravamo arrivati nello scorso episodio, e qua tra l'altro sta facendo notte. Io non ho fatto nulla essenzialmente, cioè ho giocato un po' per conto mio, ma non sono andato avanti. Ho solo portato, vedete, tutte le cose che c'erano qua nelle cesture, questi due non mi interessa portarmi lì dietro, le ho solo portate a casa e sono tornati indietro con questa roba qua. L'armatura potevo anche rifarmela, quasi quasi, sì, no, però vabbè l'avremo, probabilmente l'avremo rifersa, quindi no. E niente ragazzi, in questo episodio cosa voglio fare? Voglio andare un po' avanti. Prima, allora, ho esplorato, prima andiamo a dormire, magari se c'è un qualche villaggiero che ci ospita qua, un lettino, scusa eh. Dicevo, in questo episodio voglio andare un po' avanti, in realtà avevo, cioè ho anche esplorato un po' per conto mio, quando ho trasferito tutta la roba dopo, insomma, ho un po' esplorato questa zona. Allora, noi siamo venuti da di là, qua c'è un gattino, siamo venuti da di là e in là mi sembrava ci fosse un monumento, cioè in là c'è un monumento, in là c'è un altro villaggio e anche un monumento, quindi io intanto andrei da quella parte di là per cercare il monumento e poi ragazzi, cioè, prendiamo velocemente queste cose, poi andiamo avanti con l'esplorazione, magari vi faccio vedere solo se trovo qualcosa di interessante, perché sennò veramente vengono video troppo lunghi, e poi basta con l'esplorazione, cioè probabilmente questo qua sarà l'ultimo episodio di esplorazione, a meno che io non trovi quello che mi interessa, che principalmente, ve lo ricordo, è il legno di quercia scura. Mi interessa quello per fare un edificio che poi, ui, 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 stiamo attenti, un edificio che poi ci servirà in futuro, cioè, che voglio fare bellino per una cosa che mi servirà in futuro, e poi il kelp, se trovo il kelp è molto meglio. Ecco, là c'è il coso, il monumento, e niente, quindi ecco, con questo quindicesimo episodio concluderei l'esplorazione. Se poi non trovo quello che mi serve e che mi interessa, continuo a esplorare per conto mio, perché essenzialmente non possiamo stare qua, cioè, non posso farvi 20 video di esplorazione, cioè, se vi piacciono, meglio, io ditemelo, ve li porto, però, ecco, non credo che vi faccia piacere vedere solo l'esplorazione per tantissimo. Comunque, io, proverei a entrare qua dentro, stiamo molto attenti che non ci siano mob qua, l'entrata è murata. I mob ci sono? No? Sembra di no? Non so se magari si nascondono qua da qualche parte. Mi sembra non ci siano gli spawner qua dentro, giusto? O ci sono? No, mi pare di no. Vediamo se su quest'altra torre c'è qualcosa. No, bene, possiamo andare a prendere il nostro tesoro stando attenti. Allora, io procederei così, scendendo a questa maniera, tipo scale a spirale, vedete? Scendendo così. Perché se facciamo tanto di pigiare la pressure plate, moriamo di nuovo. E visto che nello scorso episodio, diciamo, mi è bastato morire, non vorrei fare di nuovo la stessa fine. Mettiamo subito le torce, se no, questa la distruggiamo all'istante. E forse, raga, potremo anche prendere la TNT che c'è sotto. Bene, TNT recuperata, vediamo cosa c'è nelle casse. Ne abbiamo quattro, vediamo un po'. Qui, niente di che. Comunque poi la roba la prendiamo, intanto vediamo solo cosa c'è. Qui, niente di che. Qui, tre smeraldi, buono. Anche la bardatura, ma quella c'era anche nell'altra cassa. Una mela d'oro, buono. E nell'ultima, un libro incantato con potenza quattro. E una mela d'oro incantata. Ragazzi, io direi che questa roba qua ce la portiamo via tutta. Comprese le ceste, perché sì, possono sempre far comodo, ma sì, portiamo ce l'ho via. Cioè, già all'inventario pieno, com'è possibile? Allora leviamo la sabbia, che tanto, insomma, l'abbiamo in abbondanza. Gli smeraldi ci servono, eh? Quindi leviamo magari gli occhi di ragno, che anche questi ci servono a poco. Di qua il libro e la mela d'oro ci servono, sicché via le stringhe e la sella. Vabbè, via questo, via la sabbia. Ecco, il libro incantato ce l'abbiamo. La mela d'oro ci serve. Leviamo questa. Perfetto, direi che possiamo accontentarci. E nulla, torniamo su di qua e andiamo a vedere le prossime cose. Torniamo in là, verso il villaggio, che arrivati al villaggio poi bisogna andare a sinistra, perché lì poi, appunto, ci sarà un altro villaggio e un altro monumento. Quindi, buono. Vedete, a volte un po' di esplorazione fa bene, ma stiamo attenti qua che a morire, insomma, ci vuole poco. Allora, qua abbiamo il villaggio, quindi io, allora, innanzitutto lascerei questa roba qua nelle ceste. Lasciamola magari qui. Ma sì, lasciamo questa roba qua. La roba che per adesso non ci serve la lasciamo qui dentro, per sicurezza, eh? Perché non si sa mai. E poi andiamo in quella direzione. Mi sembra il villaggio fosse di là. Proviamo, magari da... sì, attraversiamo qua e poi si prova ad andare in là. Eccolo là, ragazzi. Là c'è il villaggio e di là le mangrovie. Quindi adesso prenderemo anche quelle. Non so se quella si può considerare palude, quindi se posso trovare gli slime di notte. Perché, allora, gli slime ci servirebbero. Cioè, se troviamo una palude io mi ci fermo un po' per... Tra l'altro, guardate, è bella questa roccia. Questo villaggio era veramente bello. Comunque, se troviamo una palude, appunto, io mi ci fermo. Perché, diciamo, gli slime mi servono. E... però ecco, non so... Porca miseria. Bisogna stare attenti. Non so se si possono trovare anche lì. Qua, questo... questo tavolo qua lo prendo. Non so. No, magari glielo lascio, dai. E... e poi, appunto, questo cosa ci dà? Questo villaggero cosa ci offre? Dove vai? Dove vai? Questo... mappa vuota. Hmm... questo potrebbe essere interessante. Teniamone di conto, non facciamo avvicinare gli zone. Qui c'è una cesta con un po' di roba che noi prendiamo, perché sì. Anzi, no, dai, la cesta magari lasciamogliela, almeno quella. Sennò, veramente, poverini, stiamo portando via tutto da tutti i villaggi. Il letto blu è molto bellino, eh. Però, dai, lasciamogli anche questo. Poi, cosa c'è di interessante? Laggiù c'era tipo una casa su un'isoletta volante che spaccava veramente. Qui, cosa c'è? Crafting table e letto, quindi niente. Le trapdoor sul composter. Altro baule con solo pane e cactus. Carbone per noi. Comunque questo villaggio è anche più grande, eh. Qua ci sono le mucche e un gattino. Noi entriamo di qua e vediamo cosa hanno, insomma. Ma ciao. È enorme. Altro baule qua su. Vediamo se c'è la sorpresa. No, solo grano. Ah, colorante verde, questo. Che vorrei che vorrei ce ne fregge. Cioè, vedete? C'è una casina anche lassù su quell'isoletta sospesa. Che bellezza. Mamma mia, bello. Ah, ok. Siamo venuti qua su per niente. Non c'è... Non c'è nulla. Perché il gattino scappa da me? Sarebbe bellino portarsi a casa un neco. Qua un libro, pane e c... Bro. Succede. Qua cosa c'è? Soli teore. Io ragazzi a questo punto, visto che siamo qua a prendere anche un po' di... Di mangrovia. Di legno di mangrovia. Se mi dà anche qualche saffling, anzi... Ma guardate bellino, che è questo villaggio che è a mezzo fra il bioma della sabbia e quest'altro qua con le mangrovie. Cioè, guardate che bello questa casina qui. Bellino, bellino. Comunque vediamo se ci dà qualche saffling. Che tra l'altro gli alberi di mangrovia sono grandi, eh. Però, anche se li piantiamo vicino a casa e li fermiamo un pochino, direi non è poi così male. Questo che legno è? No, questo non è legno. Oh sì. No, mi sa che è fango questo. No, è proprio il legno di mangrovia. E allora quelle altre che ho preso cosa sono? Radici? Radici di mangrovia, sì. Allora no, ci servono anche il legno, scusate, eh. Beh, già che siamo qua, eh, ci servono anche il legno. Guardate come si vede qua sotto quest'acqua qua. Cioè, per me, raga, vi giuro, è una roba nuovissima. Cioè, io non avevo mai visitato questo bioma qua. I pesciolini tropicali, guardate che carini che sono. No, è veramente bellino qua sotto. Poi, tipo, questa roba qua, che cos'è? È fango? Vediamo. Fango, sì. Ok. E cosa... Non si può fare nulla col fango. Cosa si può fare? Mi sa che si può unire alle radici di mangrovia. Mi sa. Però poi non so che altro si può fare. Ma un sapling, niente. Ecco, e poi queste cose qua. Cosa sono questi? Questi qui. Vediamo. Propagolo di mangrovia. Non ho idea di cosa sia. Cioè, non ho idea di cosa si possa fare con questo. Non ho la minima idea. Poi vedete come si sviluppa. È poco bellino questo bioma. Stai a vedere come ci moriamo, eh. Però è poco bellino. A vederlo così è bellino. Prendiamone magari tre di questi. Non lo so. Proviamo a prenderne un po'. Ah, forse è da questi che nascono le mangrovie. Cioè, piantando questi. Cioè, sono questi qua i sapling delle mangrovie, diciamo. Forse sì. Sì, perché nel video in cui giocai per la prima volta dopo tre anni a Minecraft, se non l'avete visto andatelo a vedere, c'era questo cosino qua. Io lo misi, mi sa, per terra. O mi nacque questa mangrovia enorme perché, cioè, non me lo aspettavo. Non sapevo che fosse così. Quindi, boh, ci sta che sia per questo. Cioè, ci sta che nascano così le mangrovie, boh. Comunque, raga, il sole sta tramontando. Io qua, allora, abbiamo preso 13 tronchi di mangrovia, 4 di fango, 21 radici di mangrovia. Magari prendiamo un altro po' di fango. Così, tanto per averlo, non si sa mai. Poi dormiamo qua. E poi andiamo verso il monumento e poi vado avanti con l'esplorazione, insomma. Ok, vedo che il fango è meglio prenderlo con la palla. Buono a sapere. Accontentiamoci di 33 pezzi perché è finita la palla, però... Cioè, ne abbiamo un'altra, però... Guardate, mi parlano questi due. Questo cosa ci dà? Col pollo o uno smeraldo? No, no, no. Questo sta guardando il gatto bellino. Questo sono tipo io nella mia vita. Di qua c'è altro? Qua dietro non credo, però guardiamo per sicurezza. No, sembra non ci sia altro. Ora devo ricordarmi però dove era quell'altro monumento che avevo visto. Prendiamo anche un po' di queste qua. E poi vorrei capire se qua si può trovare il muschio. Perché, cioè, c'è il tappeto di muschio, ma il muschio come lo trovo? Perché quello è veramente bellino come blocco. Solo che non so dove trovarlo. Cioè, per ora abbiamo cinque tappeti di muschio, ma non so come si fa il blocco. Non lo so. Cos'è, raga? Una rana! Bellina! Che carina che è! Non l'avevo ancora mai vista, le rane, quando la survival. Bellino, questo coniglino che mi guarda! Tieni, ti do la carotina! Tieni, te ne do anche tre! Che carino! Ecco qua, comunque, il monumento, l'abbiamo trovato. Sempre più sotterrato, va bene. Proviamo a entrare. Vediamo cosa ci offre questo giro. Stiamo attenti ai mob. Vediamo se c'è qualcuno che ci aspetta. Finno. Ok, sembra non ci sia nessuno che ci aspetta. Io farei la stessa cosa che ho fatto l'altra volta. Cioè, scenderei così ad agio ad agio. Tra l'altro abbiamo già l'inventario pieno, c'è un problema. Vediamo cosa c'è nelle casse, ma... Da una parte speriamo ci sia qualcosa di importante, ma dall'altra è un problema perché potremmo non riuscire a prenderla. Comunque, vediamo. Qui abbiamo un libro con flaccello degli artropo di 4. Cioè, posso fare. Questo ci serve, lo prendiamo qua al posto del muro, le ossa... Le ossa, in realtà... Boh, per ora mettiamo la posto del ramoccello, poi se non servono, le vediamo. Di qua, dell'oro, che può sempre far comodo. Le ossa, vabbè, ce le abbiamo qua. Poi qui abbiamo un altro libro con efficienza 5, raga, ma... Ma cosa stiamo trovando? Ma cosa stiamo trovando? Subito al posto di queste cose qua. Questo è cos'è? Radici di mangrovia fangose. Pure poi l'ho recuperato, cioè non me l'ero neanche accorto. La bardatura di ferro, la prendiamo? In realtà ne abbiamo già un bel po'. Di qua, invece, bardatura di diamante. Questa, ragazzi, scusate, ma questa va presa. Al posto del libro delle ossa. Delle ossa. Anche del colorante verde, in realtà, eh. Lasciamo il colorante verde, tanto ne abbiamo quanto vogliamo. Ragazzi, direi che, insomma, la nostra spedizione è andata più che bene. Che dite? Secondo me è andata benissimo. Torniamo al villaggio di prima. Allora, se il villaggio è là, quello nostro dovrebbe essere di là, in teoria. Ecco là, sì, vedo già le casette. Eccoci qua, raga. 20 stringhe per uno smeraldo. Forse qua era meglio portarseli dietro le stringhe che abbiamo trovato nei monumenti, eh. Però, vabbè, non è... Io, raga, a sto punto direi che posso iniziare a fare qualche viaggettino verso casa per riportare questa roba qua e questa roba qua. Cioè, la lascio a casa e poi torno qua e andiamo avanti con l'esplorazione. E quindi nulla, sarà un altro bel viaggio. Per voi, vabbè, passerà qualche secondo, anzi, forse zero. Cioè, vedrete subito dopo. Però, per me, ci vorrà un bel po' per tornare a casa, una mia barchettina, lasciare tutta la roba, tornare in qua, riprendere l'altra roba, ritornare a casa, lasciare le altre cose e ritornare di nuovo qua. Però, vabbè, meglio così, piuttosto che tenerci l'inventario pieno, meglio tornare a casa. Quindi, niente, ragazzi. Buona fortuna a me, buon viaggio a me. Eccoci qua, approdati di nuovo sulla nostra terra. E qua, tra l'altro, c'è il mio canino, che è rimasto sempre qua da aspettarmi. Guardate, carino. Consigliatemi un nome da dare a questo canino, perché prima o poi dovremmo dare un nome anche al lui. Comunque, raga, veramente, ho fatto talmente tante volte questa strada che, boh, c'è ormai la sua memoria. Veramente, quante volte l'avrò fatto? Ho fatto un calcolo ora veloce e l'ho fatta tipo una decina di volte. Cioè, ma vi rendete conto? Per portare tra quando sono morto, tra quando ho riportato tutte le cose in là, tutte le cose che avevo, insomma, nelle ceste, nei barili, lì nel villaggio, l'ho riportato in là e l'ho riportato in qua. Cioè, dieci volte l'ho fatta questa strada. Ora, questa, cioè, andiamo avanti, questa ce la riprendiamo e andiamo avanti con questa. In questa qua andiamo avanti insieme al nostro canino. Signori, possiamo andare avanti con l'esplorazione. Sembra incredibile, ma possiamo proseguire. Vediamo se prima o poi finisce anche quest'habitat della mesa, che veramente, cioè, siamo, ora forse vincerà il deserto e vedremo solo quello. Però è davvero tantissimo che stiamo navigando nella mesa. Ora, boh, andiamo avanti, speriamo di trovare qualcosa di diverso. Anche dal deserto, insomma, questo ce l'abbiamo accanto a casa. Ok? Qui abbiamo trovato due monumenti, due villaggi, con tantissime robe interessanti, libri incantati. Però, cioè, qualche altro bioma non ci fa schifo, anche perché appunto noi vorremmo il kelp e la quercia scura. Comunque ragazzi, qua adesso andrò avanti per conto mio, che c'è un altro villaggio, di già. Subito un altro villaggio, mamma mia. Vabbè, a questo punto esploriamo il villaggio e poi andrò avanti per conto mio dopo. Dove la lascio la barchetta? La lascio qui? Ma sì, lasciamo qua e andiamo avanti. Cioè, proseguiamo a piedi. Io direi di cominciare da qua. Questi blocchi sono bellissimi. Questo è calcio estruzzo colorato, tipo com'è? No, terracotta smaltata bianca. Il calcio estruzzo forse è quell'altro. I blocchi bellissimi, veramente sono proprio belli. Comunque, qua cosa abbiamo? Pecore, valle di fieno, gattini, bellini. Prendiamo anche questi, scusatevi leggeri, ma questi blocchi mi garbano. Quindi, se li porteremo via, anche se in realtà possiamo benissimo craftarli, se non sbaglio. Comunque, qua cosa c'è? Niente, scusa, non volevo chiuderti la porta. Facciamo proprio un'esplorazione veloce, cioè non voglio fermarmi qua per tanto. Te cosa mi dai? Niente di che, gli stick? No, non ci interessano per ora. Questo lo prendiamo? Non mi ricordo se ce l'abbiamo, però prendiamolo per sicurezza. E niente, appunto, facciamo una roba veloce qua. Si sa, cesta, cosa c'è qua? Smeraldo, grano, pane, buono. Il colorante verde prendiamolo, ma probabilmente lo molleremo dopo poco. C'è il calderone qua, attenzione, quello potrebbe farci comodo. Quassù c'è niente? No? Di qua? Ah, non c'è niente. Però no, vabbè, dai, lasciamoglielo. Il nostro calderone ce lo faremo poi quando ci servirà. Abbiamo i telai. Questi li prendiamo, almeno uno. Uno glielo lasciamo, quell'altro lo prendiamo. Sì. Ah, ma se sono la campana, cioè, si vanno a nascondere tutti. Ma come mai, poverino? Dai, non volevo spaventarvi, vado via. Bene, direi che il villaggio l'abbiamo esplorato. Possiamo andare avanti. Sì, andiamo avanti. Adesso, raga, cioè, ripiglio la barca e poi continuo a esplorare per conto mio. E se trovo qualcosa di bello, magari vi... Ve lo faccio vedere, però direi di andare abbastanza veloci, ecco. Poi non trovo più la mia barca, in realtà. Dov'è finita? Non l'avevo lasciata giù di qua? Sembrava di averla lasciata qua. Ah, no, è quello di mio canino. Perché è tutto bagnato? Ah, perché ha piovuto ora, forse, prima che dormissi. Vabbè, rimarrà bagnatino qua, nella barchetta. E nulla, continuiamo in qua e vediamo cosa troviamo. Attenzione, ragazzi, forse ci siamo. Ecco qua quello che stavamo cercando. C'è anche il corallo, non so se prenderlo oppure no, però, ragazzi, c'è il kelp. Quindi adesso fare una roba bellina così, tipo scendere giù. Intanto vediamo se si può prendere il corallo. Che questo non mi dispiacerebbe. Ok, sì, me lo dà, però, vedete, ha tubo morto, quindi non ci posso fare nulla. O lo rimetto nell'acqua, non lo so, non mi ricordo bene il mio funzionale corallo. Guardate quanti ce ne sono di questi cosi qua, non sapevo nemmeno se facessero luce. Boh, buono a sapersi, allora. Ecco qua il nostro kelp, quello che tanto vogliamo. Facciamo un po' di pulito qui e ci prendiamo tutto quello che ci serve. Cioè, in realtà basta prenderlo un po' perché poi lo possiamo sempre farmare. Però, perché abbiamo già l'inventario pieno, no? Da non ci credere non è possibile. Ah, no, ok, allora perché non lo raccolgo? Boh, lì sotto non lo raccoglievo. Ok, ora lo piglio. Il pesce falla, che carino. Se avessi un secchio d'acqua potrei anche prendere uno di questi pesci. Il problema, ragazzi, è che ho il secchio di latte. Ho solo questo. Il latte non lo voglio lasciare, sinceramente, perché, cioè, intanto raccogliamo il kelp. Però, appunto, il latte ci serve, perché se si becca un altro ride, cioè, si fa la fine dell'altra volta. Quindi, niente, rinunceremo ai pesci tropicali, ma almeno ci salviamo le chiave. Attenzione, altro portale del nether. E questo potrebbe voler dire una cesta interessante. Vediamo. Zappa, tocco di velluto. Tocco di velluto? Maledizione del legame, no? La zappa con tocco di velluto? Non so quante cose ci potremmo prendere. Però il tocco di velluto ci può sempre servire. L'ascia. Qua prendiamo quest'oro. Leviamo le ossa e prendiamo la chestplate. Così. Non so se prendere anche questi magma block e questo blocco d'oro. Ci potrebbe servire, vi dico la verità. Io lo prendo, quasi, quasi. Non so se faccio male o bene. Però, provo a prenderlo. Cioè, non so se poi avrà qualche ripercussione nel nether, che tipo i piglin mi attaccano. Spero di no. Boh, attenzione ragazzi, là vedo una casetta. Abbiamo trovato l'ennesimo villaggio? Sì, mi sa di sì. E questo, parte l'ennesima caverna. Però, mi sa che questo è un villaggio nella savana. No, guardate che carino che è. Che palafit. No, vabbè. No, vabbè. Ma quanta roba stiamo trovando, ragazzi? Io non ho mai visto un villaggio così. Vi giuro, questo è il primo villaggio che vedo fatto a questa maniera. Tutto, cioè, guardate. Tavo la cartografia, no, bellino. Una cesta. Ah, ci sono delle bussole. Vabbè, per il momento non ci servono. Non ce le portiamo dietro, per sicurezza. Ma, ma, portiamocelo dietro, tanto ce l'abbiamo. Potrebbero sempre farci comodo. Però c'è case così veramente mai viste. Tutte da caccia. Cioè, guardate che belle che sono. Qua con l'argilla, fatta da argilla, questa qua piccolina. Qui c'è un letto arancione. Come, come... Questo cosa ci dà? Ci dà un'ascia. Mmm, no, no, per adesso non ci serve. No, vi giuro, bellissimo. Qui niente di che. Cioè, guardate questa stalla qua che carina. Ma è bellissimo. Smeraldi. Molto buono. Ora, io ho visto che ho questi smeraldi. Cioè, per il momento non mi servono. Però potrei provare a fare una roba. Ora vi faccio vedere. Anzi, prima finiamo di vedere il villaggio e magari c'è qualcuno che ci dà degli scambi migliori. Qua c'è niente, no? Bellina questa casa qua. Nella cesta cosa c'è? Colorante giallo. Che non ci serve. Qua sotto c'è qualcosa. No? Ok. Questo, raga, è il cartografo. Questo bisogna tenerlo qua dentro. Prendiamo la roba dalla cesta. Carta e mappe vuote. Buono. Molto, molto buono, raga. Lasciamo qua l'ecolorante verde per prendere carta e mappe vuote. Perché, cioè, la mappa vuota io la posso dare a lui? Non lo so. Perché lui forse ci dovrebbe dare la mappa proprio per la magione, non la mappa vuota. O con un po' di carta, tipo, prendo uno smeraldi. Dovrei, tipo, bloccare lo scambio, no? Però forse, essendo un cartografo, lo possiamo ritrovare. Facciamo così. Per adesso chiudiamolo dentro. E ricordiamoci che qua c'è un cartografo. Altri due smeraldi. Buono, buono. Proviamo, tipo, con lui a dargli uno smeraldo. Vediamo cosa ci dà. Se io, tipo, gli chiedo un'ascia, no? Se poi mi sblocca qualcos'altro. Così, tanto giusto per capire. Ora lascia, poi non ci serve. Però, ecco, mi ha sbloccato qualcos'altro? No, non mi ha sbloccato niente. Vabbè, abbiamo perso lo smeraldo. Io, raga, vi dirò la verità. A concludere anche l'episodio qui. Quindi, ragazzi, che dire? Io spero davvero che questo video vi sia piaciuto. Qui, cioè, abbiamo esplorato, tipo, quattro villaggi, due monumenti e poco altro. Cioè, sì, dovrebbe essere più esplorazione. Abbiamo preso il kelp, però almeno il kelp l'abbiamo preso, guardate, ce l'abbiamo qua, tre stack. Abbiamo trovato una zappa con silk touch, che comunque non è male. E niente, direi buono. Cioè, buono così, ora il sole sta tramontandosi che muoviamoci. Comunque, volevo andare un po' più avanti, però comunque abbiamo trovato cose molto interessanti. Io un villaggio così non l'avevo mai visto, quindi sono contentissimo di averlo trovato. Spero comunque che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere cosa ne pensate. Ora, probabilmente, nel prossimo episodio faremo già altre cose. Non so se continuare a esplorare per conto mio e farvi vedere solo le cose più importanti che trovo. Non lo so, perché essenzialmente, cioè, ho fatto poco. Siamo andati poco avanti in questo episodio, quindi probabilmente andrò avanti per conto mio. E poi vi farò vedere i progressi che ho fatto, le cose che ho trovato. Non lo so, vediamo. Se no, ci sta anche fare un altro episodio. Non lo so, ora deciderò un pochino. Ricordatevi di lasciare like, commentare, condividere e iscrivervi al canale. Passate al profilo Instagram e TikTok, che trovate sempre in descrizione o qua nel schermato. Il villaggero sta guardando cosa sto facendo. Se vi siete persi, ragazzi, qualche altro episodio di questa serie di Minecraft, trovate in descrizione la playlist con tutti gli altri episodi. E anche qua nella inoltre a destra, magari. E niente, io vi ringrazio, vi saluto e ci vediamo in un prossimo video. Ciao, raga!